L'ora più buia, una retrocessione che fa male ma che è risultata inevitabile per quanto visto in campo in questa stagione. Il trend è stato confermato nella gara 3 di ieri alla Infodrive Arena. L'Orlandina Basket è stata retrocessa in Serie B interregionale dopo la sconfitta per 3-0 nella serie contro Lissone Brianza, una partita mai in discussione con Lissone che scappa nel terzo quarto e non si volta più indietro. I Lombardi vincono con merito 64-78, giocando una pallacanestro migliore sia in attacco che in difesa. Troppi gli errori dei paladini che provano più volte ad accorciare le distanze, cercando sempre però le giocate individuali. Errori che non sono figli di questa partita, ma di un mercato sbagliato e di una stagione che non è mai andata come si sperava. Adesso è il tempo della riflessione e delle decisioni. Purtroppo si mette il punto a quella che è stata questa stagione nell'epidopo peggiore che potevamo pensare. Purtroppo non è quello che è successo oggi che paghiamo. Abbiamo fatto una parte finale di stagione molto molto difficile, piena di difficoltà. Non siamo riusciti a reggere queste difficoltà, purtroppo, e alla fine abbiamo pagato quelle che sono state le ultime giornate. Siamo trovati con una possibilità di dover ruotare per posizioni migliori anche in un'ottica completamente spareggi. E invece alla fine abbiamo pagato tutte queste difficoltà che ci sono sommate. Sicuramente c'è tanto rammarico, c'è tanto dispiacere. E chiaramente adesso vorremmo fermarci un attimo a ragionare un po' a freddo su quelle che sono state le dinamiche di questa stagione. Però ci devo ringraziare comunque la società per questa opportunità che mi ha dato. Io sono arrivato qui con una veste diversa e sono preso il peso di questa responsabilità, l'ho portato avanti fino alla fine, quindi devo ringraziare tutta la società per dire da Sosindoni, Ciccio Venza, il direttore Antonio Sopone, Diego Pastori e soprattutto il mio staff. Sapevamo di dover vivere delle difficoltà, di vivere una stagione difficile, ma tutti speravamo in un epilogo diverso. Ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tanto, sappiamo che non è bastato.